La data segnata in rosso sul calendario è quella del 29 giugno, quando l'azienda dovrà presentare un progetto concreto e credibile con la conseguenza del concordato oppure la vicenda prenderà altre direzioni. E' così la FIMA CISL interviene nuovamente sulla vertenza FIMER. Se nei prossimi giorni non verranno comunicate prospettive chiare, ha dichiarato la segretaria Ilaria Poletti, chiediamo che il Ministero e Tribunale prendano una posizione forte, togliendo alla proprietà l'azienda e chiamandola a rispondere di una mala gestione portata avanti in questi mesi. Il tempo ormai infatti sta per scadere e la situazione è a dir poco nebulosa. Dopo la scelta di non firmare il contratto di solidarietà senza garanzia di prospettive, il sindacato ha anche chiarito la sua posizione. Da parte nostra, ha spiegato la segretaria, non c'è più fiducia in questa proprietà. Dopo il tavolo al mise la società ha presentato una bozza di piano industriale che però non ha convinto i sindacati. Al momento, ricorda la FIMA CISL, non ci sono state date indicazioni realistiche. Ad oggi, secondo quanto emerge dal tavolo del sindacato, c'è un investitore, certina, che ha fatto una proposta che la proprietà si è riservata ancora di valutare. Ciò che stanno vivendo i lavoratori FIMA è una costante violenza psicologica di una proprietà che non sa o non vuol far sapere dove vuole andare. Quello che temiamo, conclude, è che la proprietà non abbia niente in mano o forse lo ha, ma non vuole condividerlo con lavoratori e sindacato. Dunque, l'appello è che i piani della proprietà siano portati a conoscenza dei lavoratori. Dunque, l'appello è che i piani della proprietà siano portati a conoscenza dei lavoratori.